Della manutenzione straordinaria necessaria per mettere in funzione gli impianti di risalita neanche l'ombra e così la stagione sciistica a Campitello-Matese è seriamente a rischio, i fatti raccontano di lungaggini burocratiche e inerzia che metterebbero in pericolo posti di lavoro e getterebbero fango su quella che un tempo era la cortina del centro-sud. Sindaci dell'area Matesina e operatori del settore sono così sul piede di guerra, pronti alla class action ad un'azione collettiva per vederci risarcire i danni, la ferma posizione dopo l'ultimo incontro del 28 novembre al termine del quale è stato stilato un documento inviato all'assessore e ai trasporti Vincenzo Niro, al responsabile del procedimento, al direttore dei lavori, alla ditta che si è aggiudicata all'appalto e a Funivie Molise. Missiva finita altresì sulla scrivania del presidente Donato Toma e dell'assessore Vincenzo Cotugno, una brutta pagina che avremmo fatto volentieri a meno di raccontare con una doverosa premessa, la manutenzione straordinaria di qualunque impianto che si rispetti viene effettuata nei mesi estivi, così funziona dappertutto, non in Molise, al 3 di dicembre le seggiovie Piana e Del Caprio sono inutilizzabili a finire. Nella bufera è la regione che solo il 23 novembre ha concluso l'iter amministrativo del procedimento di gara per l'appalto per la manutenzione straordinaria, iter avviato il 2 di ottobre, dunque con grave ritardo, con la nomina del RUP e successivamente del direttore dei lavori. Ad aggiudicarsi il bando, la CCMSRL, nel contratto c'è scritto che per portare a termine la manutenzione straordinaria servirebbero fino a 105 giorni, più di tre mesi, cioè a stagione invernale finita. Per questo i sottoscrittori del documento, i sindaci di San Massimo e Roccomandolfi, gli operatori economici e gli sci-club chiedono di conoscere i tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e indicano nel 24 dicembre la deadline, oltre a quella data, sarà una disfatta per tutti. Danni ai diretti interessati, scrivono, e delusione per i turisti con evidenti ripercussioni negative per lo sviluppo territoriale. Campitello Matesi un tempo era la meta preferita di tanti appassionati dell'UCI che raggiungeva nel Molise per godersi le piste e ora, invece, è l'emblema di una regione che non sa gestire la propria autonomia. Grazie. 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 Grazie.